sta succedendo di tutto in questo finale di lazio inter risultato attualmente di 1 a 1 ma c'è stata adesso un espulsione da parte di sensi che era subentrato da qualche minuto diciamo che l'arbitro è sfuggita un po di mano perché l'ha gestita in maniera secondo me poco intelligente non c'era a mio avviso nemmeno l'espulsione di immobili non c'era questa qui di sensi cioè si è un po ingigantito normali scontri di gioco normali reazioni immobile dopo un fallo si è girato ha dato una manata ma è stata più una reazione come ha mai fatto male non è che c'era la volontà di colpire stessa cosa adesso sensi insomma assolutamente reazione eccessiva da parte dell'arbitro che l'ha cacciato magari si poteva dare in entrambi i casi quattro cartellini gialli uno per il giocatore e finiva lì per quanto riguarda la gara non è stata una gara molto bella dal punto di vista estetico devo dire più per colpa dell'inter che non è una squadra bella oggettivamente a bene essere una squadra molto pratica ma sicuramente non bella c'era stato il vantaggio di lautaro martinez ma anche forse una mezza quaglietta da parte di stragoscia e per me che sono romanista il discorso è che quando probabilmente la lazio si accorgerà che in panchina c'è un portiere vero e che in campo no probabilmente saranno dolori ma in questo momento ancora non se ne accorta per cui va benissimo così e e poi niente poi c'è stato questo pareggio nel secondo tempo con un gol da posizione quasi impossibile di testa per milinkovic savic anche qui forse andarmi ci poteva colpire un po meglio il palo suo chi marcava milinkovic non ricordo che era forse perisic poteva contrastarlo un po meglio però ecco insomma partita a mio avviso rovinata da queste decisioni arbitrali e poi c'è stato il palo nel finale proprio al sarà al minuto 86 87 da parte di brozovic però chiaramente con deviazione non so se era del basso so di akpak pro insomma la palla che ha cambiato direzione è finita sul palo e poi non molto lesti due attaccante che oggi non mi sono piaciuti moltissimo nel lukaku nell'autaru nell'autaro non molto lesti alla non so se l'autaro uscirà ma ricordo comunque non mi è piaciuto oggi in generale non mi è piaciuto molto nell'uno e nell'altro anche se uno ha segnato però insomma in tante situazioni mi sarei aspettato qualcosa di più proprio perché i mezzi tecnici e fisici sono superiori alla media per cui adesso c'è ancora l'inter che nel finale sta da quando è entrato sanchez sia un po rivitalizzata sta cercando di portarla a casa perché perché comunque sarebbero tre punti importanti contro una diretta concorrente possiamo dire che la Lazio è una diretta concorrente per lo scuso e quindi sta provando fino alla fine a tentare di portare a casa i tre punti detto questo io non continuo a non capire perché conte non schieri mai ericsson sinceramente non capisco ericsson è un calciatore che proprio in questo momento magari in questi ultimi minuti ti può con una giocata con una situazione balistica un calcio di punizione una qualsivoglia situazione di può cambiare la partita come sta facendo sanchez c'è un giocatore di qualità di questa portata e tu preferisci far giocare altri altri calciatori nulla toglie a sensi che poi a me anche un giocatore che piace però insomma ma quanto ti può spostare sensi quando devi cercare di vincere la partita quanto ti può spostare non tantissimo ericsson è un giocatore che ti può spostare per cui insomma niente io adesso tra tutte le squadre che ho visto fino a oggi siamo alla terza giornata l'unica l'unica squadra che veramente mi ha convinto è l'atalanta tutte le altre comunque vuoi o non vuoi ci hanno dei difettucci che magari probabilmente alla lunga risolveranno anche perché poi quando già i giocatori di qualità una rosa così importante prima o poi alla lunga riesce a vincere perché la qualità fa differenza però ad oggi insomma l'unica che mi sembra veramente una squadra in grado di poter fino alla in pensieri è l'atalanta tutte le altre ci hanno dei difettucci anche abbastanza pronunciati e basta detto questo la lazio ci ha avuto vari infortuni in questa gara se tutti i muscolari perché poi l'ho vista la gara la sto avvenendo l'ho vista senza col muto per cui non ho sentito i giocatori quelli che ho indovinato e perché li conosco ma altrimenti non saprei bene che cosa cazzo è successo perché col muto ovviamente qualcosa ti può sfuggire questo continua a da cartellini a destra manca col muto perché c'è gente di là insomma per cui non mi sembrava adesso sto sentendo ma il volume è talmente basso che poi io che sono una persona anziana sto perdendo anche l'udito oltre alla vista per cui non sento più molto bene e basta che dire facciamo una chiosa leggo del ritorno di stefano e sharawi c'entra niente magari ci devo fare un video forse ci devo fare un video dedicato a questa cosa però sono talmente contento di questa cosa che probabilmente adesso mi vado a scoppiare una birra tutto da solo per festeggiare mi faccio un'icnusa da solo e contento anche della cessione dei clibert che a mio avviso è un mezzo giocatore adesso aspettiamo qualche altro secondo siamo nei minuti di forse a casca tutto nei minuti di recupero manca un minuto proprio del recupero c'è l'inter in avanti a sarto a forte pace vediamo se asci le young barella la mette in mezzo forse il caso di buttare alle mezzo che dite ci avete quei due cristoni buttiamo un po la torre uscita però buttiamo sta palla in mezzo c'è la chimica ormai fa praticamente l'attaccante aggiunto che giocatore importante però dico c'è lukaku a centro area mettiamo qualche palletta in mezzo che magari una spizzata una cosa invece no se continua a girare in tondo così come dei deficienti ecco adesso un cross interessante però se non arriva nemmeno a centro area è difficile che insomma lukaku possa addomesticarlo adesso ci prova varella sempre sulla corrente a chimica e mette la palla in mezzo veramente a cazzo di cane proprio e credo che a questo punto si possa tranquillamente fischiare e dire che è un 1 a 1 con delle emozioni ma non tanto per la bellezza del gioco quanto per l'arbitro che è diventato in negativo protagonista ancora intanto finisce il benevento c'è benevento sei punti si presenta l'olimpio con la roma alla prossima con sei punti quindi con più punti della roma questo va detto sempre e niente credo che si fischi credo che si fischi è finita